All'esterno del teatro Zappalà il presidente della regione incontra un gruppo di operai della JASIP, segno che il clima torna a surriscaldarsi alla vigilia di nuove proteste annunciate per domani e per venerdì. Proprio oggi il presidente della regione ha incontrato il sindaco Orlando per affrontare l'avvertenza. Governatore e primo cittadino hanno chiesto in maniera congiunto un incontro con il ministro del lavoro fornero per chiedere soldi in più da destinare alla cassa integrazione in Sicilia e quindi anche alla JASIP aggiungendo 15 milioni di euro ai 50 già stanziati. Da parte sua Orlando conta rigiungere ad una soluzione in tempi minimi. Secondo Crocetta bisogna garantire subito il salario e in futuro anche un lavoro produttivo. Insomma al termine dell'incontro a prevalere è stata la sintonia tra comune di Palermo e regione. Intanto già questo pomeriggio gli operai sono tornati a protestare ai quattro canti a presidiare il comune. Domani un corteo partirà intorno alle nove da piazza Politeama per raggiungere piazza indipendenza. Se i sindacati saranno ricevuti dal presidente della regione e arriveranno rassicurazioni convincenti potrebbe essere revocata anche la manifestazione prevista per venerdì. Gli organizzatori hanno assicurato che il corteo non si incrocerà con quello degli studenti previsto sempre per domani. I rappresentanti di 15 scuole hanno infatti annunciato una nuova iniziativa dopo le occupazioni degli ultimi giorni e la mobilitazione della settimana scorsa. Una manifestazione prevista alle 9.30 dal Teatro Massimo per arrivare in piazza indipendenza dove si terrà un'assemblea.